Mario Crosta, direttore di Banca Etica, segue Stefano Fassina. Buongiorno a tutti, il tema della finanza, speriamo non agevoli più la pausa per il pranzo, ma crediamo sia un argomento importante, siamo contenti di essere stati invitati oggi a portare alcuni argomenti sui quali noi ci battiamo da molto tempo, argomenti che pensiamo debbano entrare ancora di più rispetto a quanto è successo in passato nell'agenda della politica. Quindi il compito e il ruolo che vogliamo dimostrare, vogliamo attuare oggi con questa nostra presenza è quello di porre all'attenzione della politica, così come facciamo usualmente le tematiche che sono proprie di un modo di fare finanza, di un modo che è comunque e che sia del tutto legittimato a fare finanza. E parto a questo proposito con la constatazione di due limiti che a nostro avviso ha avuto il modo con cui è stata affrontata la questione della finanza. A distanza di ormai diversi anni, di 7-8 anni dallo scoppio della crisi, ci sembra che la politica non abbia affrontato in modo adeguato le questioni della finanza. A volte limitandosi a considerare la finanza qualcosa di tecnico, qualcosa che deve essere affrontato in determinati salotti, in determinati luoghi, senza in questo modo comprendere l'importanza e la pervasività che hanno le logiche della finanza, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Dall'altro lato il secondo limite che vediamo è lo scarso riconoscimento di quella che a noi piace chiamare la biodiversità nel mondo bancario e nella finanza. Possono esserci banche diverse e le diverse banche hanno tutte la possibilità di essere presenti. L'importante è che ci siano regole chiare. Il compito della finanza etica è dare risposta fondamentalmente ad una questione. Dare risposta e dare la possibilità alle persone di decidere di sapere cosa succede del proprio denaro, cosa succede del proprio risparmio. Esistono ormai diverse ricerche, diverse analisi che mettono in evidenza l'importanza dell'impatto sociale che hanno le azioni economiche e le azioni della finanza. Nel nostro statuto parliamo delle conseguenze non economiche delle azioni economiche che ci sono e sono molto forti. Questi due limiti, il non aver completamente affrontato le questioni della finanza e il mancato riconoscimento di una biodiversità, crediamo sia uno degli elementi che porta ancora adesso alla difficoltà di indicare strade per uscire dalla crisi. Lo si diceva prima, non si esce dalla crisi con qualche pannicello caldo, servono degli interventi che devono essere degli interventi strutturali. C'è un elemento che a nostro avviso ancora manca ed è quella fune che si è spezzata nel rapporto tra l'economia reale e la finanza. È una fune che non si è ancora riannodata. Vi cito due numeri. Il bollettino di Banca d'Italia di pochi giorni fa dice che ancora a febbraio l'erogazione del credito da parte delle banche è diminuita di quasi il 4% anno a febbraio 2014 e febbraio 2013. L'altra cifra che vi riporto è il 20%. Il 20% che è la richiesta che è diventata normativa da parte del Comitato di Basilea che dice quanto le banche devono accantonare a fronte dell'emissione di derivati. Derivati che sono la causa, noi siamo convinti, sono una delle cause che ha portato alla situazione di crisi. Il Comitato di Basilea è arrivato a definire il 20%. La proposta iniziale era il 1250% di accantonamento considerando che i derivati sono una miscela esplosiva sempre accesa perché non si sa bene l'impatto che questi possano avere. Allora poi alla domanda perché le banche facciano oggi poco credito la risposta è banale. Le banche non fanno credito perché alle banche non è conveniente far credito. Allora su questo noi crediamo debbano intervenire, tra poco ne farò cenno, debbano intervenire delle risposte che devono essere di natura strutturale. L'altra fune che è rimasta spezzata è la fune della democrazia economica. Se ne parlava prima si è parlato di stipendi dei manager, credo sia condivisibile quanto è stato detto. Noi in Banca Etica l'abbiamo risolto in modo molto semplice. C'è un parametro da 1 a 6. La retribuzione più alta non può essere maggiore di 6 volte rispetto alla retribuzione più bassa e questo è un elemento che crediamo sia di grande trasparenza. Così come l'altra questione che è stata inserita è giusto per non scatenare appetiti, il limite dei mandati. Uno è servizio, è a servizio di una struttura, di un'organizzazione, l'organizzazione va anche oltre il personalismo. Allora cosa fare? Ci sembra sia positivo anche alcune azioni che vengono messe in atto sulla strumentazione, si parla di fondi di garanzia, si parla di interventi della Cassa Depositi e Prestiti, tutte azioni tendenti a cercare di allargare il canale del credito. Noi abbiamo alcune azioni questioni specifiche a cui ci teniamo, parlo di crowdfunding, la possibilità di, anche questo lo vediamo come uno strumento di democrazia economica, di raccogliere tra il pubblico, c'è una normativa che pensiamo sia bene rivedere, sia necessario allargare le maglie, c'è una normativa sul microcredito che è piantata perché non ci sono i decreti attuativi, sono tutti quanti elementi che da soli sicuramente non permetteranno di superare la crisi ma possono essere dei contributi importanti. Così come sempre nell'ottica del rispetto di modi diversi di intendere l'economia, di intendere il fare impresa, anche la normativa sull'impresa sociale merita di essere rivista. Però detto questo crediamo che limitarsi a questi interventi sarebbe come mettere benzina in una macchina che ha il motore che non funziona più, rischieremo di disperdere, di sprecare benzina perché è necessario che ci sia una riforma importante e strutturale del sistema finanziario. Riforma del sistema finanziario che si chiama ad esempio la distinzione tra le banche commerciali e la distinzione tra le banche di investimento, banche commerciali che legano il risparmio, la raccolta del risparmio alla concessione di finanziamenti. Non diciamo che le banche di investimento non devono esistere ma devono avere regolamentazioni diverse anche perché nel caso in cui una banca vada male non si capisce perché qualcuno che ha voluto speculare debba essere risarcito come è successo con i soldi della socialità. L'altro elemento importante è il riconoscimento delle banche che hanno una valenza sociale. Oggi chi fa questo tipo di attività è ancora più penalizzato dalle banche che vogliono concedere credito. Anche questo pensiamo non sia corretto. L'altra questione si parlava prima di sindacato, l'altra questione molto importante e sulla quale si sorvola la gestione dei fondi pensione. I fondi pensione sono soldi dei lavoratori. Come vengono utilizzati questi soldi? Perché non possono essere utilizzati anziché per attività speculative, per investire in fondi, in banche che danno peraltro anche scarsi rendimenti? Perché non possono essere inseriti in percorsi che favoriscano lo sviluppo e che favoriscano l'economia reale? Stiamo parlando peraltro di una somma solo relativa ai fondi negoziali di 35 miliardi di euro. Quindi sono risorse enormi che potrebbero essere messe a disposizione dello sviluppo dell'economia. politica. È nostra consuetudine in occasione delle scadenze elettorali presentare un appello ai candidati. Lo facciamo anche questa volta. Cito solo i sei punti che costituiscono l'oggetto di questo appello che viene fatto peraltro a livello europeo perché Banca Etica partecipa a FEBEA che è una federazione delle banche etiche alternative a livello europeo. L'appello appunto verte su sei questioni. Prima questione la tassa sulle transazioni finanziarie. Nell'ottica di diversificare la tassazione crediamo sia necessario. In Italia è stata applicata, è stata applicata male, c'è stato, c'era un emendamento nella legge di stabilità che prevedeva di tassare le operazioni in derivati e questo Parlamento ha cassato questo tipo di proposta. non va bene. Crediamo che nell'ottica di reperire risorse pubbliche le attività speculative debbano avere un trattamento che non può essere certo un trattamento di favore. La seconda questione che poniamo all'attenzione dei candidati alle elezioni, lo citavo prima, la distinzione tra le banche di investimento e le banche commerciali. Possono coesistere, devono avere regolamentazione, devono avere l'applicazione di leve fiscali diverse. Terzo punto, il riconoscimento delle banche a valenza sociale. Avere una legislazione che contempli questo è a nostro avviso importante. Quarto punto, la lotta ai paradisi fiscali. Non si capisce perché i paradisi fiscali, che nella migliore delle ipotesi sono dei canali che aiutano l'illusione. Molto spesso invece sappiamo bene cosa c'è dietro e cosa passa nei paradisi fiscali e non si capisce perché debbano continuare ad esistere. Quinto punto, una regolamentazione su quella che viene definita l'attività di shadow banking. Ci sono una serie di attività parabancarie che simulano l'attività bancaria senza dare giusta tutela ai risparmiatori e ai cittadini. Crediamo sia necessario venga fortemente regolamentata e poi il punto di cui parlavo prima, il punto sui derivati, che messo assieme all'applicazione della tasa sulle transazioni finanziarie, crediamo potrebbe rischiarare l'orizzonte dell'attività bancaria e dell'attività finanziaria. Fatto in questo contesto a livello europeo, livello in cui potrebbe avere sicuramente più pregnanza rispetto al fatto di farla a livello nazionale. Vi ringrazio dell'accoglienza e spero che i parlamentari candidati sottoscrivano questo appello che abbiamo predisposto. Grazie.